Il Consiglio Comunale Cittadino E i bergamaschi cosa ne pensano? Sono d'accordo oppure no? Il titolare che cosa? Una via di Bergamo a Berlusconi Per l'amore di Dio ragazzi, aprite gli occhi Eh? No, ripeto Follia No, assolutamente sì Io credo che abbia fatto delle cose bellissime per l'Italia No comment Stessa cosa che penso dell'aeroporto di Malpensa Che è un po' esagerato Secondo me è comunque una persona di spicco Indipendentemente dal pensiero politico Potrebbe essere Buongiorno signora Sono d'accordissimo Berlusconi top Berlusconi top Sei d'accordo? Sì No, non sono d'accordo Penso che ci siano altre personalità Più di riferimento importanti per l'Italia Quindi titolarla A Drizzetti, a Cavazzini Piuttosto A girostrada Meglio ancora Ce lo merita? No Do you know Berlusconi? Sorry, no And you? No, sorry, no Where are you from? Norway Basque country Do you know Berlusconi? No 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 Berlusconi 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 Sentito però Non sapevo No, no Assolutamente Ma da chi è venuta questa idea? Sai cosa ha fatto nella vita? No però Idolo Ha salvato l'Italia rurale L'ha fatta diventare un'Italia industriale Avrà fatto anche dei lavori Dato lavoro Però prima di tutto Ha pensato a se stesso Con le leggi Fatte a uso e consumo No, sì, ci sta Secondo me È una bella idea A livello culturale Molto bello Cioè lo so È bravo È una brava persona È buona Però non sai cosa ha fatto No Io giuro C'è una fan di Berlusconi? No Sì Devi dire di sì Dopo che Sì Sì Mi lascia molto perplesso Lasciarlo riposare in pazzi Non serve Perché Anche gli altri politici Nessuno ha avuto la via L'ha lavorato Ha fatto i suoi interallazzi Aspetterei un altro Non ho un'opinione Dio Non ho un'opinione Milano Benet e Marco Van Basten Siamo li conosciuti Sì Perché no? Nel vino e nel mare Qualcosa ha fatto Il vino e alla fine Secondo me Lì va riconosciuto Non capito tanto Non c'è un'altra domanda di riserva Non vado oltre Perché non vorrei andare in polemica Era una brava persona Poi non lo so Pace all'anima sua Ma non è una persona Che ho ammirato E che apprezzo Milano è bellissimo Sì? Tutto bene Tutto a posto Ciao Grazie Buona giornata Un saluto in albanese Me lo passi Me lo dita Dobro godine Questa buona giornata Significa Però penso che ci siano altre persone Che abbiano altri valori Tipo? Tipo che la vita è un'altra vita La vita è un'altra vita Lasciamo questa accettazione filosofica Un saluto Si salvi chi può La salvi salva La 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 salva